Bentornati sul canale del NAB, oggi è puntata di reclutamento, quindi puntata importante. Ci siamo lasciati qui l'ultima volta. Voi mettete, mi raccomando, Taiho e Yamco in gruppo, ci serviranno per reclutare altri personaggi ed è opportuno fargli fare qualche livello. Una volta fatto questo, andiamo verso ovest e poi verso sud alla città di Rikon. Città che fortunatamente è molto vicina, quindi c'è da camminare davvero, davvero, davvero poco. Eccoci qui. Adesso quello che vogliamo fare è andare nel negozio di dove cazzo sta. Questo qui. A comprare un paio di cose. Allora, ci servono, per il futuro, semi di fiore blu, dall'equia flick, e questo colore blu. Una volta fatto questo, andiamo a fare conoscenza con un personaggio che recluteremo più avanti. Ovvero, Jabba. Mi chiamo Jabba, sono un esperto perito. Se trovi qualcosa che non posso valutare, farò tutto quello che mi chiederai. Ok, me ne ricorderò già che ci siamo. Analizziamo un po', facciamo valutare questo ornamento che è una bambola del malocchio. Bene, poi la metterò nel nostro magazzino. Fatto questo, andiamo qui alla locanda perché... Che al piano di sopra dovrebbe esserci una ragazza con la quale vogliamo parlare. Eccola qui. Hai visto la mia gatta? Hai vista la mia gatta? Bene, per ora questo è tutto quello che possiamo fare in questa città. A parte, andare a cercare una barca perché dobbiamo scendere lungo il fiume. E dobbiamo scendere lungo il fiume perché... Per proseguire la storia nella prossima puntata... Dobbiamo aver fatto questo tratto di fiume e aver scoperto che ci stanno dei mulinelli che ci impediscono di passare. Quindi arriviamo fino a questi bellissimi mulinelli che dovrebbero essere poco distanti da qui ancora. Poco distanti, sì. Dove siete? Sul serio? Dove cazzo siete? Eccolo qua. Rapide. Bene. La cosa importante è leggere quella scritta. Rapide. Fatto questo, possiamo tranquillamente tornare indietro. Ora, già che ci siamo, lasciatemi dire una cosa. In questa sezione di gioco dovete cercare di trovare un oggetto che si chiama Urna Senza Nome, mi pare. O Nameless Urn, se state giocando la versione in inglese, quella originale. Questo oggetto viene lasciato da un mostro di tipo fata che trovate qui sulla mappa del mondo. Quindi dovrete combattere fino a quando non ne trovate almeno uno per poter poi reclutare Jabba. Fatto sta che, una volta fatto tutto quello che vi ho appena fatto vedere, tornate indietro. I personaggi qui parlano chiedendosi che cosa possiamo fare. Proseguire è impossibile. Non possiamo farlo con una semplice barca. Bene. Questo vuol dire che abbiamo fatto partire l'evento che ci permetterà di proseguire nel gioco la prossima puntata. Adesso dobbiamo soltanto andare verso nord, alla città di Teien. Che abbiamo già visto in precedenza, proprio qui, brevissima distanza. Una volta che siamo qui, meniamo subito dentro la locanda, perché possiamo reclutare Helion. Mi chiamo Helion, tu sei Tyr, vero? Io ti conosco. Io stessa posseguo il potere di una runa. La divoratrice d'anime che possiedi ha illimitate possibilità, ma anche intenti malvagi. Chissà chi controlla chi. Mi piacerebbe guardare nel tuo futuro, ok? Ovviamente non gratis. Ti presterò il mio potere, d'accordo? Recluta. Grazie. Andiamo al tuo castello. Mio è il potere del richiamo. Se usi questo specchio, lo specchio luccicante, potrai sempre tornare alla tua base. Helion si unisce allarmata. Ma cosa ancora più importante, adesso abbiamo lo specchio luccicante che ci permette di teletrasportarci indietro al nostro quartier generale da qualsiasi punto della mappa del mondo. La cosa importante adesso, questo specchio, è metterlo su Tyr e non toglierlo mai più. Questo lo consegniamo qui, perché no? Flick, dammi questo specchio, consegniamolo a Tyr. L'importante è non vendetelo, sul serio. Qualsiasi cosa facciate, non vendetelo. Adesso andiamo qui al negozio di oggetti, perché abbiamo dei fiori e della vernice da comprare sempre per il futuro. Semi di fiore giallo. Mettiamo tutto su Taiho stavolta. Colore giallo lo mettiamo su Taiho. Adesso usciamo da qui e usiamo lo specchio per tornare al nostro quartier generale. Ehm, dove stai Tyr? Specchio. Tutto questo, piano di sopra, e vediamo di lasciare il castello via barca e poi rientrarci subito, perché dovremmo aver reclutato abbastanza personaggi da vedere il castello che si potenzia. Vediamo un po'. Uscire, rientrare. Et voilà. Adesso, che abbiamo visto questa scena del potenziamento del castello, andiamo a mettere via gli oggetti che abbiamo appena comprato. Dove sta il mio magazzino? Dove sta il mio magazzino? Dove sta il mio magazzino? Sta il piano di sopra ancora il mio magazzino? Ho dimenticato che il castello mo' si è allargato, quindi... Le... I nostri negozi e tutto il resto sono stati spostati sui vari piani, eccoci qui. Sì, mi devo liberare di un po' di oggetti. Allora... Ehm... Togliamo questa bambola del banocchio, togliamo questo frammento di una fortuna, togliamo questo, togliamo questo, perfetto. Tutte queste cose qui ce le togliamo di mezzo. Mettiamo via questi semi. Medicina, maga medicina, togliamo questo cappello. A posto. E già che ci siamo, vediamo di potenziare anche un pochettino le armi a tutti quanti i personaggi. Decisamente il momento più... Eclatante, più d'azione, con più adrenalina. E questo mi dà ancora la possibilità adesso di spiegare una cosa. Allora, Flick, come vedete, sopra il livello e la potenza di attacco dell'arma c'è scritto il nome dell'arma. Come potete vedere, l'arma di Flick si chiama Odessa+. Odessa sappiamo benissimo essere il nome di Odessa, la ex leader dell'armata di liberazione, che... non viene mai detto in maniera plateale nel gioco, però è la fidanzata di Flick. Almeno, lui l'ama, la follia. A lei pure sembra amarlo, perché lo dice chiaramente, che la sua gentilezza l'ha aiutata ad attraversare momenti difficili. La cosa interessante è che nel mondo di Suikoden c'è un villaggio che si chiama Villaggio dei Guerrieri, lo vedremo più avanti, in cui è tradizione che un guerriero dia alla sua arma il nome della cosa più importante della sua vita. Il fatto che Flick abbia un'arma che si chiama Odessa+, è l'unico indizio, in realtà, che ci viene dato. A parte un'altra cosa che però mi sa... non so se è in questo gioco o in un altro, dovrebbe essere l'unico indizio che ci fa capire che Flick è effettivamente un guerriero del villaggio dei guerrieri. Quindi, fatto questo, comunque, possiamo andare a teletrasportarci, quindi Vicky dovrebbe stare nel seminterrato. Andiamo a Teien. Teien, dove stai? Eccoti qui. Qui, altrimenti, possiamo potenziare le armi ancora di più, fino a livello 12, ma lo facciamo. Dove stai? Dove stai, Fabbro? Eccoti qua. Su, mi servono dei potenziamenti. Ecco, grazie a tutti. Cos'è molto. Grazie a tutti. 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 Una volta che lo visiteremo, adesso dobbiamo cercare il negozio di Rune. Eccolo qui, perché qui incontriamo la nostra bella topolona preferita di sempre, Jin. Benvenuti da Jin. Siete qui per affari? Reclutala. Ararmata di liberazione? Potrebbe essere divertente. Grazie a tutti. Mina. Grazie a tutti. 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 la gatta, la gatto, la gatta a... Ti ho trovato il gatto Ti ho trovato il micio Adesso ti unirai al nostro gruppo giusto? Ragazza? Dove sei? Vieni qui Vieni qui Ehi là Oh cielo, eccoti qua Ti ho cercato dappertutto Mina Grazie Tyr Mi chiamo Lotte Lotte la maga Per ringraziarti mi piacerebbe unirmi a voi Lotte sonisce all'armata Bene Ci resta ancora una cosa da fare Tre personaggi da reclutare I tre personaggi più difficili da reclutare di questo video Per farlo ci servono Taiho e Yanko E ci serve un gruppo ben preparato al combattimento Quindi assicuratevi di avere Yanko e Taiho in gruppo Tutte le armi a livello 12 Le migliori armature equipaggiate Date qualche medicina, mega medicina pure Ai nostri personaggi Poi una volta fatto questo E torniamo al quartier generale E andiamo a prendere la nostra barca Sali a borno E da qui dobbiamo andare Da questa parte A nord Ovest In quell'isoletta che vedete a sinistra Col puntino lampeggiante sopra Dai che ci siamo Eccoci qua Hai il covo dei pirati Ehi Angie Ti stai rammollendo Perché non ci dai una mano? Rammollito? Io? Vado a come parli Ti mostro io chi è il rammollito Preparati al combattimento Combatti Ovviamente Molto bene Leonardo Kanak Combattiamo Dobbiamo sconfiggerli se ben ricordo In cinque turni La cosa può essere complicata Allora Leonardo mi pare che dovrebbe essere il primo A perire Se ben ricordo Tu Flick Usa la tua runa La tua ira divina Poi utilizzate la vostra combo E tu Tir attacchi Via Flick è un personaggio fantastico Perché non ha punti deboli Flick è fortissimo Ad attacchi fisici Ha un'ottima difesa Ed è forte pure Con gli attacchi magici È veramente un personaggio A tutto Tondo Attacca Runa Ira divina C'è qualcuno Che ha bisogno di cure? Ma si Usa Questa Su Flick Perché no Attacca Difesa Via Allora Adesso Attacca Attacca Tu dovresti avere ancora Questa Perfetto Voi usate una bella combo Su Kanak Attacca Che ancora sta vivo Non ci posso credere Allora Attacca 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 Difesa Attacca Speriamo in bene A questo punto Perché i turni Stanno finendo Su Ok Buono Fatelo secco Gentilmente ragazze Attacca 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 Combo Attacca Olè Dovremmo avercela fatta Non male Taiho Sembra divertente Capisco come ti senti Diamo a questi imperiali Una bella lezione Che ne dite voi due Leonardo Kanak Se tu vai Noi ti seguiamo Certo Angie si unisce all'armata Leonardo si unisce all'armata Kanak si unisce all'armata Bene Adesso potete tornare Indietro Alla Vostra base Togliere Taiho E Yamco dal gruppo Per metterci Chi cazzo vi pare a voi E nel prossimo video Continueremo con la storia Nel frattempo Auguro a tutti Uno splendido Proseguimento di giornata